due vittorie e un pareggio nelle ultime tre nessun gol subito per la Pro Sesto sotto la gestione Angelotti e tutto un altro ritmo ha ritrovato fiducia anche la Triestina con il primo successo dell'Ara Bordini in casa della Fiorenzuola una partita dunque interessante tra Pro Sesto e Triestina arbitra Catanuso con la Pro Sesto che ci prova dalla traversone di Marianucci c'è Toci che va a staccare poi il lavoro per Lescano al limite la parata di Del Frate Triestina che prende campo con la conclusione tentata dall'Ela Zrac para Del Frate della Triestina c'è Minesso a fianco di Lescano ancora è la Zrac lo aspetta Toninelli e la Zrac morbido in mezzo Lescano schiaccia e Del Frate si supera vicino al quindicesimo gol l'attaccante della Triestina capocannoniere anche del Girone Minesso per Ela Zrac sinistro palla che si impenna poi ancora la squadra di casa che cerca l'incursione con Poggesi si oppone Matoscevic giocatore arrivato a gennaio dell'Arezzo Poggesi quindi si rivede la Triestina una palla che esce dall'area di rigore arriva Fofanà calcia male e la Zrac calcia bene e c'è il vantaggio della Triestina terzo gol in campionato per Ela Zrac proprio in chiusura di primo tempo la gioia del centinaio di tifosi della Triestina che sono arrivati a sesto San Giovanni conclusione vincente per Ela Zrac Triestina in vantaggio dopo tre gare la Pro Sesto torna a subire gol attenzione adesso a Sala l'apertura per il capitano Gattoni traversone lungo Matoscevic legge bene l'uscita D'Urso è entrato nel secondo tempo una finta un'altra se la porta sul sinistro guarda in mezzo dentro l'area Minesso ha provato Sala orizzontalmente verso Mapelli calcia Mapelli finisce sul fondo Mapelli entrato nel primo tempo al posto dell'infortunato Marianucci Florio entra solo nel finale batte il calcio di punizione tre gol nelle ultime tre solo pochi minuti di partita insieme a Baluli è entrato anche lui in questo secondo tempo Bussaglia Bussaglia anche lui a gara in corso entrato il tiro largo lanciato Basili altro innesto dalla panchina di Angelotti in questo secondo tempo Bussaglia orizzontalmente dentro l'area sono in tre della Pro Sesto Baluli non benissimo Vertainen è entrato a gara in corso nella Triestina Bertainen gran giocata per Minesso che non riesce a chiudere sul secondo palo opportunità 2 a 0 per la Triestina poi Baluli riesce ad andare via Malomo Baluli sinistro anche questo altissimo sono sette i minuti di recupero l'ultima chance della Pro Sesto che cerca il lancio in avanti Basili 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 cerca spazio per il tiro radente schiacciato palla sul fondo finisce qua con la Triestina che va al quarto posto meno tre dal Vicenza Pro Sesto che rimane a meno quattro dal Fiorenzuola terz'ultimo Pro Sesto che rimane a meno quattro dal